Buongiorno, Orchidea di Monosaro, Orchidea di Medicina per l'Anima, il libro Orchidea Storie e Personaggi, quarta edizione, lo trovate qui in Orchidea su Amazon, ha tre grandi pregi e costa poco, semplicissimo, l'ho scritto io. E' pronto il nuovo libro, adesso l'abbiamo ordinato, arriveranno, non ricordo più, se il 19 o il 20, se no potete comprare su Amazon, si chiama Orchidea di Medicina per l'Anima, ed è un libricino sulle emozioni che ci danno gli Orchidei. Penso che sia, penso io, magari non è così, che sia l'unico libro al mondo, perché ci sono un sacco di libri di Orchidee, un libro del mondo non sulle Orchidee, ma sulle emozioni che ci danno gli Orchidei. La maggior parte del libro sono i vostri commenti, le vostre emozioni, un sacco di gente che mi dice che sono la mia salvezza, nei momenti difficili della vita, e quella delle mie Orchidee che troverò forse a risolvere, tante cose così. Per cui, questo 5-ero lo trovate oppure su Amazon, oppure l'Orchidee, ma l'Orchidee la trovate da dove arrivare al 19 o al 20. Allora, tanti anni fa avevo tante di queste piante, la Restreppia, Schiccio Sepala, vedete? Le Restreppie hanno il Sinsepolo, questo qui è il Sinsepolo, praticamente sono due sepoli laterali saldati assieme. La Schiccio Sepala ce l'ha aperto, quasi diviso in due, e praticamente il Sinsepolo è la parte più vistosa del fiore. Il labello ha gli stessi colori del Sinsepolo, questo qua sopra, vedete? Ha gli stessi colori del Sinsepolo, solo che le altre Restreppie sono riunite, mentre questo qui è diviso in due. Bene, oggi voglio raccontarvi una storia di tanti anni fa, quando ero un ragazzino, 10 anni, 12 anni, così, bambino praticamente. Io abitavo nella cascina di mio nonno lì, la casa vecchia che adesso è stata ristrutturata. Allora era tutto prati e boschi, non c'era niente, da qui a Borosolo non c'era neanche una casa. Era una stretta strada bianca, di quella strada di allora, c'era 400 metri circa di livello del paese. Giù sotto qui c'era una vecchia villa, la Villa La Prea, una villa famosa, una villa storica, che adesso la strada è chiusa perché è diventata privata, la strada dove comincia il bosco, e c'è questa vecchia villa. Ma una volta era libera la strada e si poteva andare giù, e da qui arriva giù al lago, c'era poco più di un chilometro. E io ero lì che giocavo in quartiere, sono arrivati giù un gruppetto di ragazzini, 7-8 ragazzini di Morosolo, con uno un po' più grande, Sergio, che sono stato ieri a trovarlo, l'altro ieri, a trovarlo al ricovero anziani qui, che è da un po' che è lì, bravissimo, un ragazzo con un cuore d'oro. Va bene, e siamo andati giù al lago, vieni giù a pescare, andiamo a pescare, andiamo al lago. Io non ero mai andato a pescare. E siamo andati giù al lago, e lì ha cominciato a pescare, questi ragazzini qua hanno pescato un gobino, un pesciolino piccolino così, e me l'hanno dato in mano a me, buttato in mano a me questo povero pesciolino che sbatteva così, e l'ho buttato in acqua, poverino. Mamma mia, volevano darmi delle botte perché hanno fatto tanta fatica a pescare, e io l'ho rimbuttato in acqua. Me ne hanno dato di tutti i colori, solo Sergio, mi aveva capito, sorridendo mi ha detto, guarda che tanto ti portavo più, lo vengo più io. Ecco, io già allora sarei diventato vegano, dopo crescendo, con tutti gli amici così, perché da bambino mangiavo quello che mi davano da mangiare, quando uscivo con gli amici andavamo in pizzeria così, tutti mangiavano carne, mangiavo anche io carne, però non mi è mai piaciuto mangiare carne, ero sempre un po' a disagio. Poi quando ho cominciato a scrivere libri, io ho cominciato il primo libro, è uscito nel 2008. Allora, c'era stato un periodo che facevo una ricerca sull'etica, nelle mie notti insonni, che è una cosa barbosissima leggere sull'etica. E' una cosa noiosa, sopporifo, ti fa venire il sonno veramente, se uno ha problemi di insonnia, si legge qualcosa sull'etica e si addormenta. Poi ho trovato una frase di Hemingway, geniale, che poco più di una riga ti dice perfettamente cos'è l'etica, e dice, una cosa è etica se quando l'hai fatta stai bene, e non è etica se quando l'hai fatta ti senti a disagio. E io a mangiare carne sono sempre stato a disagio, ma già da allora, da bambino, non mi andavo, sapevo che c'era qualcosa di sbagliato in me a mangiare carne, perché se andate d'accordo con la vostra etica, state molto più bene voi. Hemingway aveva un'etica decisamente contraria alla mia, mi assomigliava molto anche fisicamente, ci sono delle foto mie e delle foto di Hemingway quando aveva 50-60 anni, così sia io che lui, eravamo identici, chiaramente io col cappello, perché lui aveva i capelli, invece sono, i miei capelli sono questi qua. Vabbè, però Hemingway era un gran sanguinario, cacciatore, pescatore, veramente un sanguinario, io assolutamente, quando vado a fare gli esami del sangue, mi leggerò dall'altra parte, guai, se no svego. No, no, non è per me, però ognuno ha la sua etica, deve seguire la sua etica. Se fate una cosa che vi fa stare bene voi, io non ho nessun problema, ho tanti amici, quando andiamo a mangiare, magari nelle mostre di orchidee, così con tutti gli espositori, gli altri mangiano carne, non mi dà nessun fastidio, quello che vogliono, io do fastidio loro. C'è certo che quando sanno che sono vegano, non mi guardano più, come se fossi un appestato, non lo so, io sto bene così, sto bene con me stesso. Va bene, dai, a domani.